Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, oggi siamo tornati su Minecraft Ita, ottava stagione per un nuovo episodio Detto questo ragazzi, nello scorso episodio avevamo preso i cactus, avevamo fatto un po' di exploration Oggi andiamo a sistemare finalmente, dopo tanto tempo, la farm che tanto aspettavamo, ovvero la farm di... Così, esatto, la farm di slimeball, di slime, perché effettivamente ci serve A questo punto volevo anche creare, un attimo, una piccola chest, un ender, c'è un paio di ender chest in verità, anche tre se possibile magari Per il semplice fatto, non me lo fa craftare, veramente, non conosci il crafting, wow, perché non te lo fa craftare a buffo così? Grazie, I of Ender, questo lo possiamo ributtare qui dentro, invece ci prendiamo l'ossidiano, tanto ne abbiamo un pochino E facciamo tre ender chest, perché ci serviranno, fidatevi, tre ender chest nel corso del tempo, no Qualche ender chest serve per mettere gli oggetti un po' più rari A questo punto, dove cazzo la metto, l'ender chest? Devo farmi una camera da letto, quello sicuramente Sentite, sapete che vi dico? Un ender chest Tipo, qua Ci sta, secondo me, in sacco È l'unico posto centrale, effettivamente, che io potrei, che posso avere, quindi sì Allora, ragazzuoli, ci prendiamo Un'ultima cosa, qui non c'è niente di interessante Il tridente, l'unica cosa figa che ti voglio mettere qua dentro è il tridente Allora, raga, ci prendiamo il ferro Ci prendiamo gli stichini Ci prendiamo il legno, effettivamente, perché per fare gli stichini ci servirà Una crafting, la voglio Un po' di altro legno E andiamo a scavare come se non ci fosse un domani Non ho intenzione di utilizzare il mio piccone È quello normale, per il semplice fatto che comunque So per certo che lo spaccherei Un piccone che ha comunque efficienza, unbreaking e fortuna Mi dovrebbe fastidio romperlo Mi do giù di ferro, dobbiamo scavare un sacco Comoda la cosa del minecart, eh, comunque Dite che vi pare Vi porta giù in un attimo E soprattutto vi droppa Fa droppare direttamente il minecart La cosa figa è questa Tu arrivi Epp Si droppa, non c'è, non avete nessun tipo di problema Qua, invece Abbiamo un sacco di cose carine Perché, guardate un po' Stavo iniziando a lavorare pesantemente su quello che è E sentite E vedete se spawnano uguale E ce ne spawnano di sotto Ce ne spawnano in continuazione Ok, in questa zona che è per ora inutilizzata Dato che la dovremo scavare poi Mi sono fatto una piccola scaletta Per farvi vedere effettivamente Che anche nella parte sotto Che avevamo aperto l'altra volta È pieno di fototissimi slime Cazzo Io ho neanche un cazzo a mangiare tra l'altro Ma fanno male gli slime Sono pericolosissimi Allora raga Facciamo un campo base Ci buttiamo dentro Iniziamo a mettere La crafting table Ma facciamo il campo base qua fuori Crafting Ci facciamo qualche bel picconcino Iniziamo con un piccone Anche se so per certo che ce ne serviranno di più Anzi facciamoli già di più Qui ce ne sono Tac 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 Così Ne facciamo uno Due Tre Dai quattro picconi di ferro Così andiamo sul sicuro Iniziamo a spicconare Come se non ci fosse un domani Che cosa dobbiamo spicconare Intanto Beh questa parte qua sopra Perché effettivamente Come funziona raga Qui È un altro layout Ma è tutta sta parte sopra Io non l'ho ancora tolta Quindi significa togliere Tutta questa parte qua Perché secondo voi Questi non Vi danno un fastidio Della madonna E fanno Giusti versi Ha fastidio tantissimo Cazzo Comunque faccio un botto di esperienza Con questi slime Buono Allora E non ho scavato granché Perché Mi è salito Il nazismo Estremo Quello proprio Satanico Sono dovuto scendere A massacrarli Facendo troppo casino Di giuro E so per certo Che continueranno a spawnare Ora se io sto qui Difficile Ma potrebbero Tranquillamente farlo Quindi Santa pazienza Io devo stare qui E scavare Allora raga Mi sono rimasti Sti picconi Uno è completamente andato Questo ancora sano Se altri due Andanti Per il momento Posso fare anche una bella cosa Li unisco A sto punto mi faccio Eh Una roba del genere Così ho due picconi Mi occupano meno slot A sto punto Che cosa dobbiamo fare Dobbiamo andare A fare l'altro tetto Però io andrei volentieri Andrei volentieri A prendermi Qualcosa a mangiare Perché comunque Ho tre cosciotti E è problematico Alto tre Quindi significa qua Dovrei mettere Un altro slot Un altro Cosa Forse sarebbe il caso Addirittura Di non scavarli Certi blocchi Mi risparmierei decisamente Parecchio tempo Perché Questi li ho scavati tutti Poi li ripiazzo Grande free Allora ragazzi Dovremmo quasi essere Ricapitolando Piano Primo piano Secondo Terzo Poi c'è il quarto Che è pressoché fatto Manca scavare un blocco E poi faremo il quinto Stop Basta Dopodiché Sti cazzi Che possiamo sempre fare Non è finita poi Perché dovremo scavare In questa direzione Una Questa l'abbiamo fatta Di scala Dobbiamo fare Larga tre Però l'unico Il problema fondamentale È questo Larga tre Perché Ci serve un posto Dove far Dove raggruppare Tutti gli slime Io ne ci vorrò un pochino Io devo andare A prendere qualcosa A mangiare Perché mi è rimasto un cuore Allora ragazzoli Mi sono venuto a prendere Un paio di balle di fieno Ci ho fatto dei panini E la cosa Che volevo farvi vedere È semplicemente questa Il campo di grano È completamente finito Cista cista Dobbiamo mettere Delle paratoie La sopravvice Perché Mi hanno già rotto Un pezzo di grano Mi dà fastidio Con il fatto Che comunque Ci siano degli zombie Che mi massacrino Le coltivazioni Mettiamola così Sti cazzi Perché Che è un blocco Quella farm È più che altro Di bellezza Infatti Pur estendo estetica Bisogna comunque Mantenerla Allora Torno a scavare di sotto Ho svuotato l'inventario Mi svuoto anche A sto punto Il Coso Il carbone Quindi abbiamo Una quantità Veramente infinita Va bene E va bene Torniamo a scavare Allora raga Per quanto riguarda le torce L'idea è metterle così Guardate 1 2 3 1 2 3 Tac Perché comunque Gli slot di spawn sono 3 E quindi vai a 1 2 3 Ne puoi mettere un'altra Qua effettivamente Sì A distanza no Questa va qui Perché gli dai uno slot 3 per 3 Per poter spawnare Ok Va bene 2 3 La metti di qua 1 2 3 La metti qua Nelle serie 1 2 3 4 Qui ce n'hai 4 Va bene La metti una A 3 Qui allora E poi ne dovresti trovare Una in mezzo Centrale Ma ti va bene Questo slot 1 2 3 4 5 6 7 8 Sono centrali Quel cazzo Che ti va bene Con 4 ce la faccio Illuminare tutto 1 2 3 In diagonale E andare effettivamente In diagonale 1 2 3 1 2 3 Ne piazzino così Potrebbe andare bene Beh magari non spawnano così Se vado in diagonale 1 2 3 No come la diagonale di questo Da qui 1 2 3 E tac Se vado di qua 1 2 3 Ce l'ho qui E effettivamente Potrei metterle così Decide di metterle In una cosa del genere Funziona? 1 2 3 In diagonale Sta lì Ma perché in diagonale Sta lì? Allora ragazzuoli Ho finito Ce l'abbiamo fatta È stata lunga e tortuosa In verità ancora non ho finito Ma la cosa sorprendente Che è 1 2 E c'è un terzo smeraldo Che ci aspettano Appena troviamo silta Ce li possiamo venire a prendere Qua mi sono preso un po' di ferro E ok right Va bene Mi ero preparato Mille mila torce Non sono servite Però Fotte sega Gli smeraldi Come dicevo Non voglio toglierli Perché voglio gli or Non mi interessano Cioè è mostruoso Veramente Incredibile Allora Dobbiamo iniziare a scavare qua Perché effettivamente Dobbiamo scavare Anche qui ci vuole Un pochino Sarà lunga Perché dobbiamo scavare Calcolate Tutta sta parte Fino a qua Tutta questa E anche questa zona qua Quindi faremo Magari possiamo fare Tutte le scale Già larghe 3 Che cazzo ne so Questa è la parte In cui gli slime Qui ci mettiamo Tipo tutti i snow golem In cui gli slime Vedono gli snow golem Si incazzano Vanno là O un iron golem Non lo so Quello che costa di meno Cioè è verità Lo snow golem costa di meno Vediamo 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 Da vedere E loro si incazzano Cadono Si iniziano a incazzare Con loro Con lui Con loro Loro Perché effettivamente Sono più persone Saranno parecchi snow golem Si incazzano Cadono E prendono danno Vanno nella trappola In cui poi moriranno malamente Nel corso del tempo Sarà un sistema di No Soffogamento No in verità Poi rischia di baggarsi È un casino Voglio fare quello Con i magma block Perché prendo un danno Da Bruciano Prendo un danno Quindi riesco Addirittura meglio A fare Mi serve un altro piccone Penso proprio di sì Raga È passato un sacco di tempo All'ultima clip Ho finito di fare Tutta sta parte Ho scavato tutto Lì siamo collegati Al spawner Allo mob spawner La parte finale Del mob spawner Mi sono anche stancato Di scavare Devo essere sincero Con picconi di ferro Non ne posso più Se intanto L'avrei finito Sto piccone Adesso li sono risparmiati Un sacco di utilizzi Posso pensare bene Di fare gli ultimi tre Strati La lava Cazzo è vero C'è la lava qua Merda Cazzo C'è un problema enorme No Ok Rabbassa Non è un problema Bisogna vedere Se effettivamente Ci dà problemi Di questo tipo Ok Ci dà problemi Fino a qua Poi non so Andando sotto Potrebbe essere peggiore La questione Oppure magari Era soltanto Un layer di lava E non ci dà Grandi problemi Andiamo a scoprire subito Invece Coerc Grande amy Che culo Sempre Tac 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 Ok buono Qui togli tutto Ok vabbè Non è soltanto lì Una pozzetta di lava Nulla di particolarmente interessante A questo punto ragazzuali Ci siamo Come Questione Va soltanto messo Va No In verità ci abbiamo da fare un po' Perché vanno messi Qui la parte Per killarli I mob Dopodiché va messa la parte di raccolta Che faremo con delle rail E con dei minecarts sotto Dopodiché ragazzuali Abbiamo completato la farm Allora ragazzuali Allora Allora Guardate un po' Queste sono le rail Che per ora abbiamo a disposizione Ne possiamo fare un po' Di power In verità ancora Quindi Right Potrebbe andare bene Voglio farmi alcuni blocchi redstone Per alimentare tutti i blocchi redstone Sono così stronzo Posso davvero spiegare tutta sta redstone No? Che non sono così stronzo Mi faccio le leve Effettivamente è un risparmio notevole Eh Voglio essere un risparmio notevole Ne ho qualcuna fatta? Leve 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 Bellissimo Bellissimo Ci servirà effettivamente Un altro paio di hopper E qualche altra chest Perché ci potrebbero servire delle chest Per il semplice fatto Che comunque dobbiamo andare a stoccare Tutti i risultati Eh Ci serve comunque il metodo di killing Che è questo qua Quindi con i magma block Penso di non aver bisogno di nient'altro No Giusto Le power trail Sono un po' pochine Forse ne craftiamo qualcun'altra Raga Forse abbiamo un leggero problema Ah Leggerissimo Proprio Una cosa in Trascurabilizia Mi sa che Finiamo Un altro giorno Io cado là dentro Muoio sicuro Si sa che Probabilmente Finisco io off camera Eh Mi sa di si Perché bisogna aspettare Un sacco che despawnano Questi stronzi Me ne vado Ritorno Aspetto che despawnano E poi mettiamo il resto Quindi ragazzoni Penso che per questo video Posso tranquillamente Salve il ringrazio Anzi se la visione Lasciate mi piace Se vi è piaciuto Iscrivetevi al canale Se avete fatto Di condividere il video Su facebook E fammi scena per se ne Mi raccomando La stai in tutti i link In descrizione Facebook Instagram E Telegram Ciao a tutti ragazzi